Per l'ultima della stagione regolare, col titolo provinciale già in tasca, la festa Under-14 firmata FGC Catania, che premierà con una coppa la vincente tra le prime due dei gironi di questo torneo sperimentale, la meridiana Etna Soccer si presenta a Ragalna con Foresta nel trio d'attacco dal primo minuto e Daniel Di Stefano più arretrato. Qualche piccola modifica nell'undici del tecnico Salvo Garozzo che vede una gigantesca difesa primeggiare in avvio di gara su una determinata New Team Etneo. Scuderi e Medea su Belvedere e Camonita sono impeccabili, come Carrasi sullo stesso dieci rosso-nero, che è così privato degli spazi necessari per poter battere a rete, è costretto solo a un tiro da fuori, tutt'altro che pericoloso. Per la prima azione d'attacco ospite bisogna invece attendere dieci minuti, il cross di Domenico Di Stefano esce Mollica con tanto di anticipo su Cufferi che calcia verso la porta, ma il tiro non ha sviluppi clamorosi. L'Etna Soccer è molto bloccata in mezzo al campo, i paternesi ne approfittano per imbastire qualche manovra rapida, Camonita prima di sinistro è impreciso, da ottima posizione, poi trova sulla sua strada un super Gabriele Mascali che si lancia nel salvataggio di questo pallone scagliato da fuori aria e lo devia di pugno, quel tanto che basta per evitare il vantaggio di casa. I catanesi si ricompattano dall'altro lato e rispondono nell'immediato, Daniel Di Stefano si libera di tre avversari nel traffico e impegna Mollica che salva a terra sul prosieguo. Sicurella calcia da fuori in uno dei tre tentativi dalla distanza nel giro di pochi minuti. Qui sorvolata di poco la traversa, minuto 31, tempi maturi per il vantaggio, punizione di Carrasi lunga a cercare foresta nel cuore dell'area di rigore, il portiere della New Team e Alessi allontanano per vie centrali dove di prima intenzione Mattia Larosa da fuori colpisce con l'interno destro, palla sotto la traversa che beffa gli avversari e apre la partita. Grandissima coordinazione, perfetta scelta di tempo del centrocampista Etna Soccer nel tirare questo pallone da oltre 20 metri e firmare il vantaggio 0 a 1. Questo il risultato che conclude il primo tempo con il secondo gol stagionale di Larosa. Gol fondamentale, questo in una partita complicata che registra a inizio riprese il primo cambio dentro Federico Garozzo, fuori Cifalama soprattutto vede salvare ancora una volta il vantaggio dei suoi e la porta su un tiro secco di Doria dopo meno di cinque minuti dal rientro in campo. Rifinisce poi la difesa che mantiene tutte le lucidità del caso. Al minuto 9, secondo momento topico della partita, Mascheri rimette in gioco cercando Foresta nell'altra metà campo, vinto il duello con Amenta che per un attimo lo aveva controllato. Cercato e trovato Cuffari che approfitta di una dormita avversaria e stende il tappeto rosso al limite dell'area Daniel Di Stefano. L'insistenza da parte del numero 11 Etna Soccer è premiata con una giocata larga e un arcobaleno conclusivo che si tramuta in un super goal al 44esimo raddoppio della meridiana Etna Soccer centro numero 22 in stagione per l'attaccante che mette al sicuro la partita. Entra Patti al posto di Cuffari e sfiora il trisso subito dopo una traversa che è sicurella a colpire da fuori. Su calcio d'angolo infatti Daniel Di Stefano ci mette la nuca per questa sponda a servire la nuova entrata che viene fermata solo sulla linea, evitato lo 0-3 da parte dei padroni di casa che si salvano con fortuna per via della traversa sul proseguo dell'azione colpita da Carrasi. Non è finita, ancora Alessandra Patti lanciata da Garozzo, si libera di due avversari e conclude alto di poco. Siamo al quarto d'ora. Ultimi tre cambi dentro Andrea Di Stefano, Ruscica, Giuseppe Di Stefano, fuori Medea, Foresta e Domenico Di Stefano. I subentrati contribuiscono lì dietro a rendere inviolata la porta anche nel finale durante i vani assalti della New Team ma soprattutto è ancora Mascali, terza parata di oggi ed è quasi un record a dire di no a Camonita nel recupero. Finisce 2-0 per la meridiana Etna Soccer che per la prima della festa Under 14 ospiterà in semifinale la New Team Catania seconda del gruppo A e la partita si giocherà al Duca d'Aosta. La vincente poi in finalissima se la giocherà contro una tra Real, Mister Bianco e Stella Nascente. Le date e gli orari per queste partite sono ancora da stabilire. Abbiamo giocato bene, è stata una partita molto bella, abbiamo sbagliato molti gol sotto porta però l'importante è stata la vittoria. Allora Mattia, ci voleva insomma questa vittoria per concludere questa stagione regolare adesso c'è anche un impegno di Supercoppa che vi metterà a confronto con le altre, diciamo le prime due classificate quindi ci sarà una festa Under 14, un riconoscimento per tutti voi, si giocherà al Duca d'Aosta anche qui bisognerà dare il massimo, no? Certo, dobbiamo dare il massimo, non dobbiamo mollare mai e dobbiamo sempre vincere. Mattia, come giudichi la tua stagione? È stata molto bella perché sono cresciuto, è stato bello giocare questo campionato sperimentale con i 2010. Allora il gol e la vittoria a chi dedichiamo? Dedichiamo al mister, alla società e a tutta la mia famiglia. Alessandra Patti, un grandissimo secondo tempo da parte tua, gol sfiorato due volte, uno in particolare davvero con un salvataggio sulla linea, peccato però comunque sicuramente i gol contano relativamente quello che conta è stato avere fatto una bellissima stagione con tutti questi ragazzi, tutti questi due compagni sicuramente porterà un bel ricordo, no? Sì, è stata una bella stagione piena di ricordi che ti rompe sempre. Allora, ho iniziato quando avevo sei anni e mi trovo molto bene in questa squadra. Senti, una dedica per questo campionato? Alla società e ai genitori che ci supportano sempre. Alessandra Patti, un po' di ragazzia piena di ricordi che ci si sono glossy da realizzare la Allora.